Come restare in forma durante le vacanze? Sono Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti e ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico all'aumento della prestazione e alla crescita personale. Come prima cosa per crescere iscriviti a questo canale. Le vacanze sono un momento che aspettiamo per mesi e mesi e molto spesso attribuiamo a questo periodo delle valenze, degli obiettivi, degli scopi che poi però non si realizzano più di tanto. Molte persone aspettano per esempio le vacanze per poter essere un po' più in forma, per fare più attività fisica, per essere più in movimento, però poi di fatto durante le vacanze la stragrande maggioranza delle persone in realtà si impigrisce ancora di più, magari guadagna anche qualche chilo perché ci sono gli aperitivi, ci sono le cene, ci sono le feste eccetera eccetera. Ma in realtà il proposito di provare a mantenersi in forma durante le vacanze secondo me è molto intelligente perché in quel periodo tendenzialmente tutti abbiamo un po' più di tempo e abbiamo un po' più di spazio mentale per ristabilire un rapporto ideale con noi stessi. però bisogna cercare in qualche modo di scappare al meccanismo di mancanza di controllo sulla nostra giornata che fa sì che un giorno dopo l'altro ci sfuggano le ore e rimaniamo incapaci di fare qualsiasi cosa. Ci sono tre cose che ritengo possano essere inserite piuttosto facilmente nel regime delle vacanze e soprattutto se si cambia atteggiamento mentale nei confronti di queste tre cose diventano strumenti importanti per migliorare se stessi. La prima cosa è inserire una routine al mattino. Il mattino è un momento fondamentale per stabilire il ritmo della giornata e partire con le energie fisiche ma anche emotive e mentali giuste. E questa routine di attività fisica non deve essere una cosa estrema. Può essere una camminata veloce, può essere una routine di esercizi a corpo libero, può essere un po' di yoga, una corsetta, non ha molta importanza. Ma il fatto che tu abitui te stesso a iniziare la giornata con quel meccanismo avrà secondo me il grande merito di poi stimolarti anche una volta finita la vacanza di cercare di mantenere in qualche modo questa abitudine acquisita. Il secondo punto secondo me riguarda il gioco, cioè tutti quei giochi che hanno una componente fisica, che sia il giocare a calcio, in spiaggia, a beach volley, ai racchettoni, qualsiasi cosa sia, è comunque movimento oltre che divertimento. Quindi se riusciamo a mettere nella giornata, magari approfittando anche della compagnia, dei figli, della famiglia, degli amici, per cui il gioco diventa anche divertimento, aggiungiamo un'altra opportunità di attività fisica che comunque ha un effetto sul corpo. E infine secondo me un terzo punto molto importante per una visione della forma che è più complessiva rispetto alla pura forma fisica è il relax e la compagnia della famiglia, degli amici, che sono una di quelle cose che nella frenesia delle giornate lavorative spesso veramente sfugge. Non siamo agli estremi degli Stati Uniti, però purtroppo anche in Europa comincia a diventare abbastanza vero che le famiglie hanno poche occasioni di incontrarsi, che mangiano sempre meno assieme. Ecco che le vacanze possono essere un momento anche per arricchire la nostra vita emotiva di questi spazi e la forma in fondo anche quella fisica dipende da tutti questi fattori. La forma fisica non è soltanto la risposta agli allenamenti, ma è un qualcosa di più complessivo e sarebbe sempre meglio infatti riferirsi ad una condizione di buona forma psicofisica e non soltanto per quello che riguarda il corpo. Quindi una routine al mattino, giocare di più e soprattutto giocare con i ragazzi, e terzo godersi di più i momenti di compagnia e di relax sono tre variabili da tenere sotto controllo durante le vacanze per non perdere o magari anche migliorare la forma psicofisica. e se vuoi avere delle strategie molto più specifiche per fare questo visita il mio sito www.filippo-ongaro.com e troverai un sacco di risorse per migliorare la tua forma fisica e mentale.